Vediamo oggi come realizzare un orologio con i Neopixel, quindi useremo tre dischi Neopixel, tre anelli, e ognuno di questi visualizzerà ore, minuti e secondi. Questo è un primo tentativo per creare un orologio un po' particolare, quindi un po' diverso dal solito. Iniziamo subito. Realizziamo un orologio con tre anelli Neopixel, quindi un orologio grafico che avrà al centro il nostro arduino. Per realizzare l'orologio ci serve un RTC, quindi un real time clock. Per esempio uso il DS1307, ce ne sono diversi di migliori eccetera nel cassetto o questo, poi potete adattarlo con quello che preferite. Questo oggetto lo andate a collegare tra 5V e GND, lo collegate poi sulla linea I2C dell'Arduino, quindi avremo la SDA e la SCL che potete prendere sui relativi pin dell'Arduino o eventualmente sui pin A4 e A5. Poi abbiamo dall'altra parte Neopixel, ne ho usati tre, anche qui queste avevo in casa, quindi mi sono dovuto adattare. Ne avevo uno da 24 che è usato per le ore, uno da 16 per i minuti e per i secondi uno da 8. Allora quello delle ore, quello più grande, visto che aveva 24 led, l'ho dedicato appunto all'orario. Poi ho quello dei minuti composto da 16 led e poi quello più piccolo da 8 usato per i secondi. Li ho collegati su tre pin diversi, quello delle ore l'ho messo sul pin 3. Quello dei minuti l'ho messo sul pin 4 e quello dei secondi sul pin 2. Le tre strisce poi hanno il loro ground e l'alimentazione che in questo caso porto sul 5V di Arduino perché non accenderò più di un led per strisce, quindi è come se avessi tre led accesi contemporaneamente. Come sempre andate a collegare tra il 5V e il ground un condensatore da 1000 micro e una tensione di almeno 5-10V. Microfarad, questo è elettrolitico. Vi sono dimenticato di dire una cosa importante, dovete aggiungere una resistenza da 470 Ohm tra il pin di Arduino e l'ingresso dati del vostro Neopixel per evitare problemi come indicato sui datasheet, quindi non dimenticate. Questo è il circuito da realizzare, vediamo come pilotarlo. Dovremmo andare a installare le librerie necessarie, quindi sotto Sketch, Include Library, andiamo a cercare dentro Manage Library, quindi nel Library Manager, le librerie per il nostro hardware. Abbiamo la FastLED, quindi cerchiamo FastLED, trovate FastLED di Daniel Garcia, quindi installate se necessario e poi per il DS1307 io uso la libreria di Adafruit, si chiama RTCLib e questa qua, RTCLib di Adafruit, come vedete è già installata. Andiamo a preparare e includere quello che ci serve all'inizio dello sketch, quindi nel setup all'inizio andremo a fare l'Include per FastLED e poi lo configureremo, poi vado a fare l'Include della RTCLib per il Real Time Clock. L'oggetto RTC ha un nome abbastanza complicato da ricordare, è RTCDS1307, lo chiamo RTC l'oggetto. Vado a preparare poi tre Array per le tre strisce NeoPixel, infatti non li gestiremo come un'unica striscia ma come tre separate con tre controllori, quindi avremo CRGB, li chiamo HLED, H per ora sta. Quindi questa ha 24 elementi, copio l'array, altre due volte, avremo i minuti e poi i secondi. I minuti sono 16 e i secondi abbiamo 8 LED, ok? Quindi dovremo poi cercare di raccordare il dato da visualizzare con i LED che abbiamo a disposizione. Nel setup, se volete potete fare Serial Begin per avere a disposizione la seriale e avere qualche informazione debug. Aggiungiamo, non fa mai male, Serial Begin 9006, chiamiamo la funzione ClearLeds che adesso definiamo per fare il setup dei LED e poi prepariamo l'RTC. L'RTC di Adafruit ha un metodo Begin che permette di inizializzarlo. Questo ritorna un boolean, quindi mi dice true o false e posso sapere se l'inizializzazione è andata bene o male. Quindi if not RTC Begin, quindi se non viene inizializzato, ho un problema e quindi mi devo bloccare. Posso fare un return in modo da bloccare l'esecuzione e non vado più avanti, quindi dovete poi magari stampare un messaggio d'errore e intervenire. Magari è meglio stampare Serial.println, mettete un messaggio sulla seriale, per esempio CheckClock. Poi l'altra cosa da fare con l'RTC è l'inizializzazione se è la prima volta che viene utilizzato. Quindi se è nuovo, non lo avete mai usato, dovete andare a impostarlo chiamando il metodo RTCIsRunning, quindi RTC.IsRunning. Questo mi dice se è la prima volta che viene utilizzato. Quindi metto davanti not, cioè se is not running, se non è mai stato inizializzato, gli passo l'ora e la la data corrente chiamando RTC Adjust e passo DateTimeF, gli passo l'oggetto DateTime con la data e l'ora di compilazione dello sketch, quindi come se la rubasse al nostro computer. Mi manca la funzione ClearLED, questa volta è un po' più laboriosa. Copio il nome, andiamo qui in fondo, faccio Void, ClearLED, aperta e chiusa, mettiamo le graffe. Devo definire qui dentro i tre controllori per le tre strisce LED, quindi avremo FastLED, AddLED, il chip VS2812 usato dai miei Neopix, il pin 2, modalità GRB, quindi passo SLED per i secondi e numero di elementi 8. Posso farlo anche per le altre due strisce che ho, quindi avremo quella dei minuti che abbiamo detto mettere sul pin 4 e la chiamo M, ha però 16 elementi, poi l'ultima è quella delle ore, quindi 24, abbiamo detto che le ore sono sul pin 3. Andiamo a inizializzarle con dei cicli FOR, devo farlo per tre volte, quindi vado prima sul SLED, quindi quella dei secondi, incollo qui, vado da 1 a 8 con il ciclo FOR, SLED I, vado a mettere CRGB tutto a 0, copio il ciclo FOR per altre due volte per fare la stessa procedura alle altre strisce. Devo ricordarmi di modificare gli indici, quindi qui è 16, questo è 24, ho su quello a 16 il ciclo FOR con I che va da 0 a 16, lavoro sui minuti, quindi M LED li metto tutti a 0, l'ultimo ciclo FOR va fino a 24, sto lavorando quindi sulla HLED, ho dimenticato di cambiarlo, imposto anche questa tutta a 0, poi faccio fastLED.show per spegnere i LED e li abbiamo preparati. Andiamo a ragionare sul loop, qua abbiamo il ragionamento ad alto livello, quindi cosa farò? intanto vi faccio dare l'ora, date time now rtc.now, questa è l'ora corrente, non ho ancora un sistema per visualizzare quest'ora, quindi inizio a inventarmi una funzione, faccio show hour e poi vediamo come fare, qui cosa gli passiamo? now.hour, quindi la mia libreria mi ritorna l'ora appena letta, la passo a questa funzione che poi definiremo, mi preoccupo dopo di quello che andremo a mettere dentro lì per far uscire correttamente l'ora, faccio lo stesso per i minuti e per i secondi, cambiamo ovviamente qua, mettiamo minute e qui second, quindi questo va a accendermi i LED corretti, poi per visualizzare il tutto facciamo fastLED.show, perché imposteremo i nostri neopixel all'interno di quelle funzioni presumo e poi mettiamo un delay, qui posso mettere la scelta, mettiamo mezzo secondo perché tanto abbiamo una scansione di un secondo e poi vedrete che per come l'abbiamo definito non vedremo la lucetta dei secondi cambiare ad ogni secondo ma ogni tot. Andiamo ora a occuparci di queste funzioni, partiamo da quella delle ore, mi copio il nome, metto in fondo, facciamo void show hour aperta e chiusa con le graffe, che parametro ci passano? Mi passano l'ora, quindi qui dentro faccio int h. Come faccio a visualizzarlo? Mi arriva un numero che va da 0 a 24, dovevo apparlo sui miei LED, quindi in teoria dovrei fare un map ma in questo caso è inutile, quindi possiamo usarlo così com'è. Per rendere la cosa un po' più interessante mi invento una funzione piccolore che va a definire ogni volta in modo casuale il colore da associare. Allora, creiamoci tre variabili, r, g e b. Chiamo questa funzione piccolore che poi definiremo, questa mi estrae un colore in funzione dell'ora corrente, quindi l'ora è h, in modo che ogni numero sia associato a un colore diverso. Passiamogli le nostre variabili, visto che voglio che le modifichi e le devo passare per indirizzo, quindi farò and r, and g e and b. In questo modo sto dando l'indirizzo della mia variabile. Questa piccolore assegnerà dei colori a queste tre variabili a seconda del numero che gli passo, lo andiamo a applicare al nostro LED, quindi h LED di h, l'indice corrisponde all'ora, abbiamo c, r, g, b e qui mettiamo r, g e b. Applichiamo il colore. Poi qua ho un altro problema che mi avevo incontrato con lo sketch del supercar. Quando accendo un LED devo occuparmi di spegnere quello precedente, quindi dovrò fare, copio la scrittura, mi metto qui sotto, devo fare h-1 e metto tutti i valori a zero. Ok, questo me lo va a spegnere. Però devo stare attento all'indice, quindi devo fare un controllo. Se h è maggiore di zero posso chiamarlo, altrimenti no. In caso contrario ho un S e nel caso fossi nell'ultima posizione, cioè passo dal 23esimo indice allo zero, devo andare a spegnere il 23esimo perché sennò mi resta acceso. Quindi avremo h LED di, lo posso mettere fisso, 23, lo mettiamo uguale a zero in modo che lo spengo. Questo perché la mia striscia è da 24 ore, quindi avremo la divisione, quindi questo qui è l'indice zero, questo è 23. Se fosse l'una di notte devo accendere questo e spegnere quello precedente. Quando arrivo alle 23 e passo lo zero, devo ricordarmi di mettere qui il LED acceso e di spegnere quello sulle 23. Per farlo ci serve questo IF che abbiamo scritto qua. Quindi questa qui è la nostra funzione per andare a accendere il LED corrispondente alle ore, lo copio, faccio show minute, qui avremo non la h ma m, dentro è simile solo che ci serve un mapping, quindi dovremmo fare int n uguale, faccio map d, i minuti m vanno da 0 a 60, io qua però vado da 0 a 16, quindi devo fare questo map per adattare i minuti ai LED che ho a disposizione. Il resto è più o meno uguale, quindi ho le tre variabili RGB, chiamo piccolore dove passeremo l'indice n che abbiamo calcolato, poi avremo m LED, andiamo a accendere il LED nella posizione ennesima che abbiamo calcolato, questo è come vado a impostare il mio colore, poi qui devo fare un controllo su n, quindi se n è maggiore di 0 avrò m LED di n meno 1 a 0, quando ho l'indice uguale a 0 devo ricordarmi invece di andare a spegnere quello in fondo alla coda che trovo nella posizione 15, quindi eccolo qua. Copiamo un'altra volta questa funzione, la prepariamo per i secondi, quindi show second, qui mettiamo s, n è ancora uguale così, abbiamo il mapping da 0 a 60, qui faccio da 0 a 8, il resto più o meno è tutto uguale, quindi non cambia nulla, devo solo aggiornare gli array, quindi non sarà il minuto ma sarà quello SLED e poi c'è da correggere l'indice qua che arriviamo a 7, quindi dovrebbe essere corretto in questo modo. Ci manca solo la pick color che andiamo a definire adesso, la funzione pick color è così, void pick color, dentro gli metteremo uno switch che prende l'indice n che passiamo e va a calcolare dei colori in funzione dell'indice. Allora mettiamo gli parametri, abbiamo un int n che è per esempio l'ora o l'indice corrispondente all'ora e minuti e secondi che viene passato e poi dobbiamo andare a fornirgli i parametri rgb passati per indirizzo, quindi qua quando lo passo per indirizzo uso la e commerciale in modo che estraggo l'indirizzo della nostra variabile, qui non posso mettere un int r perché non ho una variabile ma ho l'indirizzo della variabile, si indica in questo modo con l'asterisco, quindi avrò int asterisco g, int asterisco b, perché ho fatto in questo modo? Perché voglio modificare le variabili, in una funzione normale quando io ho un passaggio di variabili viene copiato solo il valore, in questo caso invece noi agiremo proprio su queste variabili modificandone il valore in modo che poi qui sotto abbiano il valore che gli ho assegnato qui dentro, altrimenti lo perderei. Allora come lavoriamo qua? Immagino di usare solo 5 colori per brevità e quindi farò così, mi calcolo il modulo, faccio n per 105 in modo da avere 5 colori, lo divido per 5 e prendo il resto e poi qui ho ok 0, break, punto e virgola, me lo copio un po' di volte, cambiamo gli indici, 1, 2, 3, 4 e qui dentro andremo ad assegnare dei valori alle nostre variabili. Per esempio se è 0, magari lo metto rosso, quindi faccio %R uguale 2, 5, 5, con l'1 magari facciamo il blu, quindi faccio %B uguale 2, 5, 5, qui facciamo green, lo facciamo verde, poi caso 3 magari mettiamone 2 insieme, mettiamo contemporaneamente R e G, R e G, magari mettiamo 127, ora li sto mettendo a caso, poi dopo li aggiustate e li provate a vostro piacere, ok? Potete anche trovare un modo più intelligente, per esempio usare l'HSV in modo che cambi il colore proporzionalmente, diventa ancora forse più bello e più interessante, quindi fate voi la prova, ci sono veramente tanti modi per fare questa operazione. Se volete potete trovare sistemi più intelligenti, per esempio usare l'HSV come abbiamo visto in qualche video precedente, quindi lascio a voi il compito di sbizzarirvi. Un'altra cosa, i secondi, io quelli faccio cambiare in questo modo con il mapping, lo vedrete muoversi ogni circa 10 secondi, se volete farlo lampeggiare ogni secondo, modificate il codice in modo che a ogni giro accende un nuovo puntino. La modifica dovrebbe essere abbastanza semplice, eventualmente se proprio non ce la fate pubblicherò un video più avanti, quindi questo dovrebbe essere tutto, quindi lo compilo, se non ci sono errori lo carichiamo e vediamo se funziona. Vedete il cerchio piccolo dei secondi cambia molto lentamente, ogni volta cambia colore, quindi avete il giallo, qua per sfortuna sia l'ora che i minuti hanno lo stesso colore. Come sempre i colori sono molto sbiancati perché col telefono vengono interpretati così. Bene, per oggi è tutto, avete visto, l'effetto che si ottiene è abbastanza simpatico, potrebbe essere un po' difficile da leggere, però rientra nella categoria di quegli orologi binari, magari ne svilupperò qualcun altro più avanti, sono orologi curiosi che tempo fa andavano anche di moda, ovviamente non molto semplici da leggere, riescono solo quelli un po' nerd, un po' geek. Bene, saluto, ti ringrazio, ci vediamo domani, ciao!